GF VIP, Geremias Rodriguez eliminato e la lettera di Fabrizio Corona. La decima puntata del Grande Fratello VIP, ha visto uscire il piccolo De Rodriguez dopo che era entrato in nomination con Malgioglio. Il giovane riceve una lettera dall'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, attualmente ancora in carcere, ed ha sempre stato un amico, nonché ex cognato in quanto ex fidanzato di Belen. Ecco cosa scritto. I ricordi sono la bellezza del mondo, e tu sei un ricordo bellissimo di una parte molto intensa della mia vita. Mi sembra ieri, che ti sono venuto a prendere all'aeroporto di Linate con le tue sorelle. Sei sempre stato uno spirito libero, un puro, attaccatissimo alla tua famiglia. Quante volte abbiamo discusso perché quello che ci accomuna, è l'istintività, ma ci volevamo un gran bene e ci rispettavamo. Oggi ti seguo da qui, da dentro quattro fredde mura. Questo viaggio ti deve servire a migliorare, a porti obiettivi, e ad essere d'aiuto. È giunta l'ora di crescere, non puoi più permetterti di dimenticare le persone che ami. Siamo con te ti voglio bene.